Siamo qui a Villa Grande di Monbaroccio. Qui con noi c'è la dottoressa Chiara Lodovici, psicologa e operatrice del benessere, nonché presidentessa dell'associazione culturale Il Sentiero dell'Anima. Di che cosa si occupa questa associazione? Questa associazione nasce da un'idea comune di diversi soci fondatori di occuparsi proprio del benessere psicofisico della persona a 360 gradi, quindi comunque partendo dal fisico facendo anche gruppi di sostegno, quindi anche psicologico e anche spirituale, insomma spirituale intendendo la nostra parte più alta, quindi per proprio entrare maggiormente in contatto con se stessi e ritrovarsi. Visto il mondo caotico che abbiamo, che non ci permette di conoscerci, questo può essere diciamo uno strumento per conoscersi meglio, per amarsi anche un pochino di più. A breve ci sarà l'inaugurazione di questo centro? Sì, l'inaugurazione sarà il 29 di settembre, infatti spero insomma di vedere molte persone e dalle 18 alle 21 circa e la zona sarà strada della Romagna 150 di Fano. E noi ci saremo comunque. Con mio grande piacere, con mia grande gioia, grazie. Ora ci parlerà la dottoressa Chiara Lodovici dei chakra e ci spiegherà un po' come funzionano, sono descritte in molte filosofie e dottrine religiose orientali e quindi ci illustrerà nei dettagli insomma. Sì, io ho pensato insomma ecco diciamo mi occupo di diverse cose tra i quali appunto chiaramente fare dei corsi insomma di conoscenza dei chakra perché penso che siano degli strumenti importanti proprio per ritornare al discorso che vi ho detto prima, per conoscersi maggiormente. Intanto il termine chakra deriva dalla parola sanscrito che significa vortice, ruota e proprio perché ha un movimento circolare, quindi chiamato così appositamente perché ha un movimento circolare. La conoscenza dei chakra appunto dicevo può essere importante e per una comprensione generale profonda di tutti quelli che sono gli effetti che hanno le nostre, le nostre diciamo le energie sottili che si trovano nell'ambiente che ci circonda perché rientrano appunto all'interno del concetto di energia sottile. Cioè noi non siamo solo materia fisica, cioè è tangibile ciò che vediamo e siamo composti anche da altro. Per esempio no, l'aura si è sempre sentita parlare di aura no, quindi questo alone di luce che ci circonda e i chakra appunto rientrano all'interno di questo percorso, di questa conoscenza delle energie sottili. Ecco con lo sviluppo della conoscenza, della comprensione e la consapevolezza di questi centri si può riuscire a lavorare sul nostro benessere. Molte volte se questi chakra, se questi centri energetici sono bloccati o chiusi o disarmonici possono procurare anche proprio dei disagi a livello psicofisico creando anche delle chiamiamole malattie psicosomatiche, non entrando nel medico chiaramente, però disturbi che possono essere correlati a uno stato psicologico disarmonico, quindi possono essere la conoscenza uno spunto per vedere se abbiamo un dolore da qualche parte, magari ecco vedere da dove origina e lavorarci. Chiaramente magari non è questa l'occasione, la situazione, però ci possono essere, verranno passati anche nei corsi che faccio, di solito degli strumenti per poter riequilibrare questi chakra.